Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova videosintesi di scienze. Prima di iniziarla ricordo a tutti di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Le piante, essendo immobili, sono molto sensibili alle condizioni ambientali, soprattutto relative a temperatura media e disponibilità di acqua. Quindi ad ogni tipo di clima possiamo dire sia associato un certo tipo di vegetazione. In base a questo possiamo immaginare l'intera biosfera del pianeta come suddivisa in un certo numero di mega ecosistemi o biomi, alcuni di tipo forestale, ovvero a prevalenza di alberi, altri limitati ad una vegetazione erbacea. In questa carta vediamo indicate le zone in cui possiamo trovare i grandi biomi della biosfera. Questi a grandi linee si ripetono allontanandosi dall'equatore in direzione dei poli, verso nord o verso sud. Ad esempio i deserti in giallo si trovano in corrispondenza dei tropici. Tuttavia alcuni biomi, soprattutto di climi molto freddi, sono presenti solo nell'emisfero nord, a causa della maggior concentrazione delle terre emerse rispetto ai mari a nord dell'equatore. Iniziamo proprio da questi, partiamo da nord. Tra i biomi esclusivi dell'emisfero nord, quello che si spinge alle latitudini, ovvero alle distanze dall'equatore maggiori, è la tundra, presente nelle zone ridosso del polo nord, spesso libere dai ghiacci per un breve periodo all'anno. Il terreno, spesso fangoso, e le basse temperature consentono la presenza di vegetazione quasi esclusivamente erbacea. La vegetazione della tundra è estremamente povera e limitata a specie con pochissime esigenze come muschi e liceni. Tuttavia tra di essi possiamo trovare erbe che producono fiori e frutti e alberi nani come il salice in basso a sinistra. Più a sud della tundra, e quasi esclusivamente nell'emisfero nord, troviamo il bioma della foresta boreale ottaiga. In questo tipo di bioma forestale, che ricopre estese superfici nelle parti settentrionali di Europa, Asia e Nord America, zone della Siberia, dell'Alaska e del Canada, predominano le conifere. Come detto più volte, le piante più adatte a climi così rigidi, con l'acqua presente nel terreno spesso in forma di ghiaccio, sono proprio piante di questo tipo, sempre verdi e con foglia d'ago, che riducono le perdite di acqua per traspirazione. In questo tipo di foresta, che possiamo trovare anche a latitudini inferiori ma in alta quota, ad esempio presso le nostre vette alpine, il dominio delle conifere può essere interrotto da angiosperme e arboree come la betulla. A differenza di altri tipi di foresta, la componente erbacea del sottobosco è qui piuttosto ridotta. Si tratta quindi di un tipo di foresta che non si riforma facilmente o in tempi brevi a seguito di disboscamento. Procediamo con gli ecosistemi forestali scendendo verso sud. Nelle zone a clima temperato di entrambi gli emisferi, con temperature intermedie e piogge abbondanti ed ugualmente distribuite in tutti i mesi dell'anno, la formazione vegetale tipica è la foresta di latifoglie. Dove la disponibilità di acqua non è un problema, prevalgono alberi con foglie ampie e che cadono durante i mesi invernali. Nell'immagine a destra un esempio italiano, la foresta umbra in Puglia. Tra i molti alberi rappresentati in questo tipo di formazione vegetale ci sono, vediamo sulla riga in alto, varie specie di quercia, il faggio presente soprattutto in quota, diverse specie di acero ma anche il castagno che non vediamo qui rappresentato e molti altri alberi delle nostre zone. Inoltre, la foresta di latifoglie presenta un ricco sottobosco di specie erbacee, felci, muschi e funghi ed ha una certa capacità di ripresa a seguito di disboscamento. È comunque da dire che per la loro collocazione geografica, ad esempio gran parte dell'Europa centro-settentrionale, ecosistemi di questo tipo sono tra quelli che più di tutti hanno subito l'impatto delle attività umane e in molte zone hanno lasciato il posto a centri abitati, campi coltivati e impianti industriali. Nelle zone equatoriali, dove le temperature sono sempre alte, senza differenze tra le stagioni e la piovosità è elevatissima, prosperano le foreste pluviali, come quella amazonica in Sud America oppure quella dell'Africa centrale. Sono luoghi difficili da esplorare, con una vegetazione intricatissima e sono quasi perennemente avvolte nella nebbia. Sono tra gli ambienti a più alta diversità vegetale e animale del mondo e a cui si deve buona parte della produzione dell'ossigeno liberato nell'atmosfera e che respiriamo. Caratteristiche di questi affascinanti ecosistemi sono le liane, con i loro fusti resistenti e flessibili. Inoltre queste foreste sono tra i pochi posti al mondo dove possiamo trovare delle felci, da noi ridotte ad erbe con fusto sotterraneo in forma di alberi, quindi felci con fusti alti e legnosi, felci arboree. Le foreste pluviali sono purtroppo tra gli ecosistemi più fragili, difficilmente si riformano a seguito di disboscamento, a differenza delle foreste temperate, e vengono sostituite dalla savana, formazione erbacea tipica di ambienti semidesertici e tutto questo con notevole perdita di biodiversità vegetale e animale e minore apporto di ossigeno all'atmosfera. Intorno al bacino del Mediterraneo, dove le temperature sono medio-alte ma abbiamo la stagione estiva ammarcatamente arida, troviamo la macchia mediterranea, caratterizzata da pochi alberi e prevalenza di arbusti o d'erbe, con adattamenti ad un clima, a tratti semidesertico e alla presenza di incendi frequenti. Questa formazione si può trovare anche in altri continenti, come in Australia occidentale, in California, in Sudafrica, con condizioni climatiche simili. In questi ambienti è importante per le piante ridurre le perdite di acqua per traspirazione e così troviamo piante con foglie indurite e coriacee, come quelle del leccio, eccolo qui, una specie di quercia insieme alla quercia da sughero, tipica di questi ambienti, oppure addirittura foglie agiformi, come quelle del rosmarino, che non è una conifera, e del ginepro, una conifera mediterranea. In basso vediamo il mirto e il corbezzolo, arbusti tipici della macchia mediterranea. Le specie di questo tipo di formazione vegetale sono per lo più sempre verdi. Nelle fasce di transizione tra i deserti e le zone occupate da foreste pluviali, a clima caldo e arido e con breve stagione piovosa, troviamo la sabana, che in molte zone si sta purtroppo espandendo a spese delle foreste pluviali. È caratterizzata da una vegetazione soprattutto erbacea, con pochi alberi, ma spesso di grandissime dimensioni. Particolarmente famosa è la savana africana, per il suo affascinante ed esotico popolamento animale, con leoni, giraffe, zebbre, gazzelle e molte altre specie di erbivori e carnivori. Altre formazioni, soprattutto erbace, sono le steppe di Europa e Asia centrale, paragonabili quasi a dei deserti freddi, con clima rigido e continentale, tra gli ecosistemi più poveri del mondo, e in basso le praterie americane che troviamo negli Stati Uniti, zone interne e in Argentina, caratterizzate da un clima con maggiore piovosità. Le piante del deserto, vivendo in un ambiente estremo dove l'acqua è quasi totalmente assente, presentano tra i loro adattamenti la trasformazione delle foglie e spine per ridurre drasticamente le perdite di acqua per traspirazione e la capacità di accumulare riserve di liquidi nel loro corpo, tanto che sono note come piante succulente o grasse. Quindi siamo nel settore degli adattamenti ad ambienti particolari. Altre piante devono fare i conti con ambienti dove di acqua ce n'è troppa, come le mangrovie, grandi alberi delle paludi tropicali, che hanno radici immerse in acqua e che si sollevano come sgabelli per consentire gli scambi di ossigeno e nitride carbonica. In genere, le piante acquatiche hanno foglie sottili e a nastro per resistere alle correnti. In basso vediamo la lenticchia d'acqua, una delle piante più piccole che si conoscano, e la posidonia, una delle poche specie di piante marine che forma estese praterie sui fondali del Mediterraneo. Su terreni poverissimi di materiali nutritivi possiamo trovare addirittura piante carnivore, che si nutrono di piccoli animali, soprattutto insetti, trasformando alcune loro parti in trappole a scatto oppure ad imbuto o invischiando gli insetti in peli appiccicosi. In basso vediamo uno dei pochi esempi di pianta parassita, priva di foglie e che si nutre della linfa di altre piante che si trovano intorno. Di questo tipo di piante, che possono essere molto dannose per i raccolti, emergono dal terreno solo le infiorescenze. Infine, dato che le piante non si muovono, molte di esse hanno sviluppato meccanismi di difesa nei confronti degli animali erbivori, come, nelle due immagini in alto, lo sviluppo di spine su tutta la superficie del corpo, che troviamo nelle già citate piante grasse o in varie specie di cardo o di rovo, oppure in basso, tramite la presenza nelle loro foglie di sostanze velenose, come nelle specie rappresentate in basso la bella donna e la digitale, che possono essere sostanze velenose, in questo caso per ingestione, ma in altri casi anche per semplice contatto. Per la video lezione completa, link in descrizione o cliccando sulla schermata finale. Ciao a tutti e alla prossima video lezione!